cari tifosi della roma cari tifosi della juventus cari amanti del calcio in generale innanzitutto bentornati e ben ritrovati e buona domenica primo settembre siamo qui ovviamente perché oggi è il grande giorno soprattutto per noi tifosi della roma e per voi tifosi della della juventus c'è una partita importantissima che potrebbe cominciare ragazzi a a indirizzare ulteriormente l'andazzo di una di una stagione voglio essere provocatorio dice siamo appena alla terza già stai a pensa a questo sì ragazzi miei sto già pensando a questo guardando il periodo storico delle ultime due partite nostre e loro un'ipotetica vittoria da una parte o da un'altra secondo me gli equilibri soprattutto dal punto mentale dal punto di vista psicologico te li sposta e come e alla luce di tutto questo io ribadisco un concetto che ho espresso qualche giorno fa se non ricordo male non era ancora finita la seconda giornata e io già avevo detto mi sto cagando addosso per questa partita confermo e sottoscrivo anzi lo squacquerello la cacarella la paura di questa partita da spettatore ovviamente io non so un calciatore della roma non devo scendere in campo è anche aumentata vertiginosamente per tante tante dinamiche allora facciamo così vi ho già salutati ma vi risaluto bentornati e ben ritrovati lasciate like per supportare questo genere di contenuti e se ovviamente ragazzi visto che ancora non l'ha fatto volete il parere del buon fabio sulla situazione calciomercato della roma sulla situazione difensore centrale tutto quello che è successo danzo jalò alla fine è arrivato ermoso mi sto cagando addosso anche per quello perché sta per fare le visite mediche e ragazzi sapete quello che è successo negli ultimi giorni volete il suo parere vi basterà lasciare like più ne lascerete e più sarà altamente probabile che vi assicurerete anche quel contenuto seguitemi e attivate le notifiche resterete sempre aggiornati quando pubblico qualcosa non vi perderete più nulla tasto iscriviti tasto campanella menu a tendina che si apre tutte le notifiche e stai a posto non ti perdi più niente due canali di calcio un extra calcio in descrizione come sempre compariranno qui durante il video ovviamente poi ieri sera è ermoso e tutto quanto non è arrivata la feed perché non era un contenuto previsto ma ragazzi è stata una cosa cotta e magnata ve l'ho voluta condividere immediatamente quindi potete recuperare quel contenuto potete scoprire che cosa ne penso di quell'operazione di calciomercato ma qui dobbiamo parlare di altri fattori ragazzi ragazzi del fattore campo ci sono state anche delle dichiarazioni di De Rossi secondo me anche abbastanza interessanti proprio durante la conferenza stampa per juventus roma se volete posso farci un contenuto dedicato non è questa la sede più opportuna perché dovremmo poi saltare su altri argomenti situazioni ha parlato dell'inter del calciomercato dell'inter e ha parlato della litigata che si è fatta con Cristante e le denunce una cosa in altra se volete hashtag lo voglio e su gaboman calcio extra oggi vi porto il mio parere anche su quelle dichiarazioni diamo un'occhiata a quelle che sono le probabili formazioni cerchiamo di analizzare la situazione e come faccio sempre in questo tipo di contenuti ragazzi io parto sempre dallo stato mentale dallo stato psicologico di entrambe le squadre e rientro nei meriti di un'analisi che probabilmente poi vi ripeterò a partita terminata in un day after parlandone con Fabio va sottolineata questa cosa di come se ripensiamo alla passata stagione poi alla fine a juventus c'è comunque arrivata davanti se andiamo a guardare ma ricordatevi l'euforia con cui è arrivato De Rossi come stavano cominciando ad arrivare i risultati l'apice dell'arrivo di De Rossi secondo me è come abbiamo buttato fuori il Milan dall'Europa League nel doppio scontro situazioni tattiche e via dicendo come no stavamo vivendo un periodo di euforia che poi verso la fine della stagione è andato a spegnersi perché vi ricorderete comunque con l'Empoli ci abbiamo perso 2-1 se non mi ricordo male poi abbiamo riaperto il campionato tra 0-0 col Cagliari in altra sconfitta all'Olimpico questo giro contro l'Empoli noi viviamo di alti e bassi ricordatevi la juventus della passata stagione quella della seconda parte della stagione con Allegri una squadra completamente diversa che si è rivoluzionata e tutto quanto ma ecco dice dove cazzo vuoi arrivare io voglio arrivare proprio qua ma voi vi rendete con noi a prescinde calciomercato non calciomercato perché ad oggi ragazzi comunque alla fine sul campo bene o male è scesa praticamente la juventus dell'anno scorso con Cabal che bene o male ha sempre giocato con Ildiz con Bangula e quindi molta più next e di Gregorio molta più next e Savona molta più juventus next gen che in realtà i tanti nuovi acquisti ecco io lì voglio arrivare cioè può essere l'euforia dei nuovi acquisti e via dicendo ma avete notato che differenza abissale che c'è tra la juventus della passata stagione delle incertezze dei Allegri non ce sto a capire più un cazzo una squadra sulla carta rispetto a quella finora scesa in campo un campionato pure più forte con Rabiot con tanti altri calciatori che non sono stati con Ferchiesa calciatori che se ne sono andati e via dicendo ma voi vi rendete conto che ad oggi giocando sul campo più deboli di quelli della passata stagione questi già hanno alzato l'asticella questi già stanno viaggiando su un'altra lunghezza d'onda su un altro livello e dice ma le prime due partite sono state agevoli pure a noi il destino, il fato ci ha messo dinnanzi le prime due partite che sulla carta potevano e dovevano secondo me per gli obiettivi che ci abbiamo essere semplici eppure abbiamo visto tutti quello che cazzo è successo e noi rispetto alla Juventus qualche acquisto leggermente più importante in termini di milioncini di euro lo abbiamo già schierato dalla prima giornata vedi Sule vedi Dovvic bastano già questi due calciatori cioè tu già 70 milioni di euro nuovi freschi, spesi tu sul campo questa è già la terza partita che li utilizzi questa è la differenza ragazzi e io da una parte ammiro da una parte invidio perché qua c'è ammirazione ma c'è anche invidia nei confronti di una compagine che questo significa essere una squadra vincente ragazzi ce lo devi avere nel DNA ma prima o poi ce devi diventare così una squadra non è che nasce vincente sin da subito poi so i cicli che te dicono periodo e non periodo però nel DNA della Juventus c'è questo ovviamente per il momento per quello che sto vedendo si sta andando verso la direzione giusta sono state fatte le scelte giuste a partire dall'allenatore a partire da tutto dalle scelte che sta facendo l'allenatore ma come cazzo hanno alzato l'asticella e io vedo le altre squadre ma raga quest'anno sta succedendo con la Juventus negli anni passati è successo con il Napoli cioè vedo una Roma che fa così 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 mentre vedo le altre squadre che fanno così e poi se mantengono su determinati livelli fanno un ciclo vedi il Napoli una stagione poi sì per carità crolli e controcrolli ma ci superano di continuo noi rimaniamo sempre fermi al palo ovviamente ribadisco le prime due giornate però ci tenevo a fare sta sta analisi perché secondo me è anche sinonimo per capire quello che può essere il potenziale all'interno di tutta una stagione di una determinata squadra se una squadra c'ha veramente fame c'ha veramente voglia di fare lo vedi da come rompe il ghiaccio noi come abbiamo rotto il ghiaccio abbiamo rotto il cazzo la nostra squadra ha rotto il cazzo già i tifosi nelle prime due partite partite di incertezze partite di ragazzi lacune difensive clamorose diceva ma è arrivato il moso sì aspetta e spera deve arrivare se deve inserire la sosta per i nazionali poi quello è un discorso più in là pensiamo a stasera chiusa questa questa parentesi questo discorso è normale che io abbia paura di affrontare di andare a Torino ad affrontare la Juventus questa Juventus poi perché conosco quello che è che è il gruppo quella che è la la compagine nostra quello che è il nostro attuale periodo poi per carità ragazzi noi siamo capaci dei tiraffori ottime prestazioni quando fino a due giorni prima veramente non ci stavi a capi niente sbagliavi tutti i passaggi che potevi sbagliare concedevi tutto quello che potevi concede indovinate un po' io da tifoso della Roma lo spero me la auguro una cosa del genere ma io voglio che la mia squadra sia più prevedibile sotto sto punto di vista cioè io vorrei non quella sensazione pre partita ogni volta di ansia di paura perché non c'ho mai la sicurezza di poter affrontare ste avversarie alla pari poi a prescindere da quello che sarà il risultato io negli ultimi anni ragazzi ogni volta che sono andato ad affrontare soprattutto in casa loro le big la sensazione la paura la percezione è sempre stata quella di poter le perde ste partite e oggi la situazione non mi cambia è quella la la paura poi ribadisco parlano le prime due giornate del campionato c'è sta ci sta poco da fa io prevedo una Juventus perfetta sotto ogni punto di vista a prescindere da da quelli che saranno i calciatori che scenderanno in campo poi vedo la panchina sono stati convocati e non partiranno i titolari a differenza nostra che già butteremo nella mischia un calciatore appena comprato oppure questo è un segnale secondo me importante ragazzi c'hai la fretta di lanciare determinati calciatori perché c'hai la coperta corta perché loro Nico Gonzalez con Seisau e Kopmeiners probabilmente non verranno impiegati dal primo minuto se dice che Nico Gonzalez potrebbe avere qualche chance per avere un po' di minutaggio con Seisau e Kopmeiners non dovrebbero proprio subentrare Danilo e Douglas Lewis dovrebbero ulteriormente andare verso la panchina per motivi differenti da quello che ho capito Danilo dovrebbe essere ancora un po' acciaccato fisicamente ma non mi vorrei una cazzata lo avevo letto da qualche parte e Douglas Lewis continua ad essere una scelta tecnica alla luce di tutto quello che vi ho detto mentre mi si sta scaricata a batteria ma come sempre voi non state a vedere dicevo ma ogni volta il registro in video si sta scaricata a batteria ieri così è un continuo c'è un ballottaggio tra Savona giovane talento della next della next gen che ha fatto benissimo senza se senza ma nella precedente partita e il neo arrivo Calulu per la fascia di competenza comunque che sta fisicamente bene alla luce di tutto questo adesso vi leggo il 4-2-3-1 dei bianconeri la formazione che ci affronterà questa sera ovviamente di Gregorio in porta porta per il momento Savona sulla destra ribadisco in ballottaggio con Calulu Bremer Gatti e Cabal e guardate già ragazzi leggendola così col Gatti cioè pensate alla Juve dell'anno scorso Cabal sì per carità bel giocatorino ma un ragazzino della next gen Bremer vabbè sempre Bremer Gatti che l'anno scorso tra arti e bassi aveva fatto autocolle pure l'anno scorso e via dicendo cioè se io ripenso ad Allegri sulla panchina con la difesa del genere e penso alla Roma dei Rossi l'anno scorso dico è la nostra occasione è la nostra opportunità col cazzo ragazzi cioè io ad oggi ho un filo di pensiero completamente diverso cioè c'ho paura di questa difesa che ad oggi non è una difesa cioè Cabal deve alzare ulteriormente le asticelle è un buon buonissimo giocatore ma Savona è giovane è acerbo eppure io sulle fasce di competenza ragazzi se guardo pure chi c'abbiamo noi a me l'ansia a me sale ed è assurda è paradossale sta cosa Locatelli Fagioli sulla mediana quindi riconfermati in toto la classifica che continua a fa panchina e che continuerà a subentrare ma Locatelli che ha alzato l'asticella in una maniera incredibile sta facendo sta sfornando delle prestazioni assurde e là c'è il lavoro di Diago Motta Fagioli che ragazzi sulla mediana c'ha delle caratteristiche ben precise che probabilmente non dico non c'ha nessun calciatore della Juventus ma è uno dei migliori in quel ruolo in fase di impostazione e ti viene riconfermato altro giovane tra l'altro la batteria della tre quarti che comunque te vede ragazzi due e ripeto due ragazzini giovanissimi della next gen perché ci stanno Hildiz e Bangula e poi vertice alto per ovvi motivi dovrebbe giocare a Cambiaso perché determinati i nuovi acquisti sono appena arrivati cioè non è neanche la Juventus più forte assolutamente no che andiamo ad affrontare è una Juventus sicuramente più scarsa tra virgolette perché comunque no tra giovani che devono prendere esperienze e via dicendo non sarà mai come se avessero schierato Copmeiners con Seisau Niko González Hildiz e Vlaovic non so se mi sto spiegando non è per mancare del rispetto a giocatori che stanno a fare benissimo vedi lo stesso Cambiaso vedi lo stesso Bangula e Vlaovic giocherà là davanti ecco questa è la squadra che che ci affronterà che andremo ad affrontare all'Allianz però nei movimenti nei dettami tattici negli automatismi abbiamo visto come gira sta squadra come Tiago Motta nel giro da quando sei insediato a Torino sti calciatori a prescindere da chi scende in campo ed è questo un punto di forza loro giocano già a memoria e sta cosa mi fa paura mi fa veramente paura perché poi il fattore casa potrebbe essere ancora più determinante e la paura che c'ho è una sola e adesso ve la svelo e voglio leggere la mia formazione voglio analizzare anche questa dinamica perché c'è una cosa che io continuo continuerò a non capire la ribadirò fino allo allo sfinimento qualcuno continuerà su quella lunghezza d'onda ma io mi sono fatto un'idea ben precisa ovviamente importa la certezza svilare cioè uno dei pochi che mi fa star tranquillo ad oggi e di cui non c'ho paura possa far danni mo preparatevi perché allora stasera come minimo farà qualche danno è proprio sbilar cioè se io devo pensare a tutti gli altri calciatori ce ne stanno pochi che mi fanno sentire tranquillo poi vabbè i giocatori offensivi là davanti ragazzi la paura ti viene più per i difensori che verranno schierati perché gli attaccanti al massimo se possono mangiare i gol non provi senso di paura quando un attaccante si mangia un gol provi senso di paura quando un difensore ragazzi si fa assertare come un birillo se si mangia un gol gli puoi bestemmi a contro lì per lì sbilar perlomeno mi dà la sicurezza mi dà la certezza mi dà la consapevolezza che ragazzi sicuramente le mani quando ci starà da mettere ce le ce le metterà dal punto di vista difensivo io oggi ad oggi Sky Sport parla di un 3-5-2 non so se effettivamente 3-5-2 sarà o se all'improvviso poi verranno cambiate le carte le carte in tavola e se parla di Mancini Indica e Angeligno Angeligno ragazzi io vado a guardare e mi viene schierato ovviamente come Mancini Indica e Angeligno poi c'è non mi ricordo manco come si chiama il segno di interpulsione punto e virgola punto e virgola giusto per parlare di Nedved era tanto che non dicevo punto e virgola ma era sfuggito Angeligno doveva fare il terzo di difesa 3 non è che mi fa stare così tranquilla sta cosa dal punto di vista fisico più che altro poi come dice pure lo stesso De Rossi come ha detto tante e tante volte il modulo a volte è in interpretazione temporanea perché io mi posso schierare pure de base come 3-5-2 ma in base di impostazione mi metto a 4 faccio scala in calciatore insomma ormai i dettami tattici odierni io so d'accordo che possono essere anche abbastanza relativi però la base della difesa 3 con Angeligno per quanto mi pare fosse già stato schierato con risultati anche abbastanza dignitosi e abbastanza decenti ma dal punto di vista fisico e dal punto di vista del duello aereo un conto è che me lo metti sulla corsia di competenza un conto è che me lo metti nel pacchetto di difesa 3 e dice ma c'hai gli esterni che te copriranno in qualche modo che andranno a far più densità e aiuteranno anche l'igno guardando gli esterni che c'ho insomma ripeto non è una situazione poi così anche semplice da interv... io voglio prendere aspettate voglio fare una cosa perché c'ho un altro sito molto molto affidabile che io utilizzo per vedere le probabili formazioni e voglio vedere non ve lo svelo perché sono infame e voglio vedere si si viene riconfermato il 352 pure qua probabilmente l'avranno presa da da Sky Sport ah no però qua viene riportato un cambio viene riportato che non viene riportato molto interessante come cosa vabbè 352 allora quindi ribadisco dal punto di vista fisico che cazzo è qua che è una caccola ma che cazzo le devo dire vabbè non sto tranquillissimo per quel motivo Selic a tutta fascia a destra poi ci abbiamo a centrocampo centrocampo a tre Cristante Paredes e Pellegrini qua non c'è sta niente da interpretare Paredes Tefar Mediano davanti la difesa le mezzali saranno Cristante e Pellegrini a tutta fascia dall'altra parte arriva una novità clamorosa ma se lo dice Skysport io credo più a Skysport che ad altri siti verrà lanciato Selmegaard al primo minuto e poi là davanti in tandem uno a ridosso dell'altro giocheranno di Bale e Dovbic io guardo la formazione ragazzi ovviamente per carità cioè se uno sta da retta se uno deve sempre schierare tutti i nuovi acquisti sarebbe sempre una critica continua però hai comprato questa è l'analisi che voglio fare io poi magari sarà questa la formazione ma dovesse essere questa la formazione no ma hai comprato su Le giusto Di Bala manco volevi non voglio essere non devo dire che deve giocare posto di Di Bala è una critica dal punto di vista tattico che poi ovviamente potrebbe averci in senso logico perché De Rossi pensa che col 3-5 possa contenere meglio una Juventus del genere l'allenatore è lui cioè mancherebbe però cazzo è un ex per eccellenza pure Di Bala è un ex per eccellenza è un ex per eccellenza ma secondo me vorrà ci avrà tanto da dimostrare no io l'avrei schierato lo schiererei dal primo minuto un calciatore del genere per quello che dico non è che De Rossi ci sta a far capire tanto sotto sto punto di vista che fino all'altro giorno su Le sembrava imprescindibile sembrava e anzi quello che veniva messo in discussione era Di Bala si ribaltano completamente le carte in tavola se il Megara sulla sinistra ribadisco Di Bala Dovbic là davanti ovviamente hai comprato Dovbic non è che fai giocare a Shomurotov poi se volete l'ennesimo video sfogo in cui alla fine non abbiamo preso un vice Dovbic perché c'hai Shomurotov là veramente possiamo entrare in un argomento dei altri 45 minuti di cui 39 minuti sono solo bestemmioni apocalittici se il Megara ci vogliamo concentrare su se il Megara leggo rapidamente queste due righe che scrive Sky Sport convocati i nuovi Manucone e Alexis Megara all'esterno arrivato dal Milan ma nell'ultima stagione a Bologna farà subito il suo esordio cioè sono sicuri Sky Sport nel gruppo Pertorino c'è anche Smalling destinato però all'Arabia Saudita ne parleremo ne parleremo a tempo debito ne parleremo parlerei parleresti parleremo parleremo nelle prossime ore con la Roma a volte mi scordo le coniugazioni nelle prossime ore con la Roma vicino allo svincolato ermoso vicina in realtà l'abbiamo preso e forse anche Mats Mats Hummels e di quello ne parleremo e parleremo anche in questo caso Selme Guerra io penso alle parole del De Rossi nella fine della partita precedente e ragazzi El Sharawi sembra che non sia insomma in forma dal punto di vista fisico sembra che non sia in forma partita ma com'è possibile questa è l'analisi che voglio fare Selme Guerra praticamente ha un allenamento forse due con la Roma ma poi esterno a tutta fascia Selme Guerra esterno a tutta fascia ragazzi deve fare un lavoro non indifferente com'è possibile che arriva Selme Guerra rispetto a giocatori più rotati voglio lasciare il beneficio del dubbio che il Sharawi ci abbia ancora i minuti nelle gambe ma io mi aspettavo più una staffetta cioè se starà a allenare il Sharawi è possibile che questa ancora non sta a mettere i minuti nelle gambe è possibile che ci ha fiato per far almeno 45 minuti come se deve è possibile che arriva Selme Guerra e si mette davanti a Zaleschi e a e a e a il Sharawi così senza aver manco capito come se deve andare in serie all'interno del contesto tattico e in una situazione di rischio come esterno ribadisco a tutta fascia dove deve coprire dove deve coprire zone del campo particolarmente importanti se poi guardiamo come Selme Guerra che era stato schierato da vertice basso da Fonseca qualche settimana fa ha fatto solo danni cioè anche questa è una situazione che mi preoccupa cioè mi avrebbe preoccupato pure a me il Sharawi mi fa stare tranquillo in quella situazione de fascia de competenza a tutta fascia per quello che ha dimostrato con Murigno solo lui mi fa stare tranquillo però a sto punto arrivo a di cioè avrei preferito essere preoccupato con Zaleschi a tutta fascia che perlomeno è uno che De Rossi ultimamente stava utilizzando spesso rispetto a Selme che era che arriva ragazzi sa quello che deve fare e non sa quello che deve fare perché ribadisco è una questione proprio temporale è appena arrivato ragazzi gli scontri non saranno semplici in mezzo al campo sulle fasce dal punto di vista della difesa ribadisco con Angeligno nei tre di difesa se io vado a incastrare ragazzi la formazione da Juve con quella probabile altamente probabile della Roma ribadisco c'erano degli scontri dove comunque io vedo mismatch dove la situazione mi preoccupa mi preoccupa abbastanza con Savona che ragazzi vorrà confermarsi su quei livelli vorrà spingere vorrà vorrà fare bene lo stesso Cabal pure dall'altra parte non è che starà a guardare probabilmente De Rossi vorrà combattere quella che è la densità che a centrocampo comunque nel bene o nel male fa la Juventus con cinque calciatori in maniera differente perché teschieri a quattro ma due dighe tra virgolette davanti alla difesa perché una è una diga tra virgolette Locatelli l'altra è Fagioli che imposta e la batteria della tre quarti forse non vuole avere inferiorità numerica a centrocampo quindi è per quello che si schiera a cinque ipotizzo io provare a scardinare una difesa a quattro con centrocampo a cinque con due quinti a tutta fascia perdi le densità al centro dell'area di rigore però mi viene da pensare ragazzi che se giocherà probabilmente molto più sulle fasce quando fai 3-5-2 è difficile poi dipende ovviamente perché se vedi l'esempio dell'Inter l'Inter cioè ti gioca dipende pure dalle qualità dei calciatori ti gioca nel centro del campo ti gioca sulle fasce indifferentemente ma secondo me l'idea è quella di provare a mettere palloni in mezzo per Dovbic per fargli sfruttare sti cazzo dei centimetri palloni che possono arrivare dai quinti e palloni che possono arrivare da Tibala questa è la percezione che ho speriamo solo che non ci sia quella verticalità frustrante e troppo immediata che abbiamo visto in realtà in alcune partite precedenti fine a se stessa io sono d'accordo anche sul possesso palla fine a se stesso che non è mai producente quel possesso palla orizzontale in cui giri 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 in concluding cazzo nell'attesa di un'imbucata che arriva e non arriva e che nel 90% dei casi non arriva ma secondo me ci servono sempre le vie di mezzo ci vuole attenzione ci vuole anche sicurezza dei propri mezzi per affrontare sta Juventus ci vogliono tante cose che ad oggi ragazzi mi preoccupa perché non credo le abbiamo perlomeno in quelle misure in realtà ragazzi potrei andare avanti in altra ora nel parlare di tutto quello che potrebbe essere la mia paura ecco questo ve lo ve lo posso dire poi magari commenteremo qualora dovesse accadere è che qualora loro con l'aggressività con la cattiveria dovessero riuscire ad avere la meglio negli scontri a centrocampo tu cominci ad andare in confusione perché sei intimidito del fatto che è una Juventus importante quella nuova di Diago Motta l'intensità che te mettono comincia a sbagliare passaggi te aggrediscono sin da subito dall'alto sbagli dal basso insomma te recuperano una palla e dopo pochi minuti passano un vantaggio per me ragazzi la partita è già bella che chiusa fatta è definita perché poi conosco la mia squadra conosco il contesto conosco i calciatori ragazzi vanno in confusione e se fanno mettere sotto dall'avversario se disgraziatamente passi in svantaggio per noi si mette veramente male non è che si mette in salita diventa una scalata insormontabile questa è la percezione che ho ad oggi questa Roma di questo periodo storico in altri contesti in altre situazioni vi avrei detto ci abbiamo le forze per ribaltare la situazione non vedo una Roma perché poi l'ho vista contro l'Empoli l'Empoli ci ha distrutti dal punto di vista della creazione delle occasioni come posso non pensare che se ci ha messo in difficoltà l'Empoli all'Olimpico non ci possono mettere nel giro un 4-4-8 in difficoltà loro quella è l'analisi da fare è una situazione oggettiva ragazzi che uno ha sotto sotto gli occhi da un giorno a un altro non ti cambia completamente la situazione le magagne se ci stanno poi noi siamo capaci di tutto ma non le modifichi così se invece riesci ad arginarli dal punto di vista tattico riesci ad avere l'intuizione magari di questo dettame tattico per un minimo fermarli arginarli e dovessi riuscire con una giocata con uno spunto con una spizzicata più del singolo secondo me che del collettivo ad oggi e passi in vantaggio magari quella partita non dico che te la porti a casa perché secondo me ad oggi sta Juventus è più forte pure con tutta la next gen che ci hanno in mezzo però magari riesci a strappare un pareggio cioè io ad oggi la vedo difficile riuscire ad espugna all'Allianz e a vincere contro i bianconeri cioè sarei quasi quasi meravigliato di quella dinamica sarei felicissimo me lo tirerei di fuori ma sarei meravigliato di una cosa del genere alla luce di tutto quello che vi ho detto e capite bene che non potevo parlare pure delle parole dei rossi perché se no sarebbe durato un'ora e mezza sto contenuto ci vediamo stasera guardate che roba probabilmente giocheremo con questa maglietta e chi vivrà vedrà però voglio sapere quella che è la vostra percezione qua sotto nei commenti ribadisco io c'ho c'ho una paura di quelle clamorose ragazzi perché conosco i miei polli purtroppo alla prossima con un nuovo video grazie a tutti